Ciao, sono Giulia De Monaco e sono una studentessa frequentante il primo anno di magistrale in coordinamento e gestione dei servizi educativi. Perché ho scelto questa magistrale? Per due ordini di ragione. Il primo, coordinatore. La mia volontà è infatti quella di approfondire e indagare una figura multifacettata e complessa e sicuramente diversa da quella dell'educatore studiata in triennale. Due, qualità dell'offerta formativa. La nostra università offre infatti la possibilità di svolgere diverse attività laboratoriali e un'esperienza di tirocinio che permette di accordare teoria e prassi.